Sintesi previsionale per martedì 22 agosto 2023. Ancora alta pressione di natura subtropicale attiva soprattutto al nord e dal centro nord, dove nelle pianure interne il caldo si farà sentire. Qui le massime toccheranno locali punte fino a 38 gradi Celsius con sensazione di afa. Qualche temporale sparso sulla cresta alpina e soprattutto tra Calabria, Basilicata e Sicilia, a causa della presenza di aria instabile in quota sotto forma di debole goccia fredda. Ventilazione dominante da nord. Successivi due giorni. L'anticiclone subtropicale insiste soprattutto al nord e dal centro nord, portando temperature molto elevate con punte fino a 38 gradi Celsius nelle vallate interne. I cieli saranno per lo più sereni salvo addensamenti pomeridiani sul comparto alpino e tra Calabria e Sicilia interna, dove si svilupperanno rovesci o brevi temporali pomeridiani. Giovedì possibili sconfinamenti dei temporali sulle pianure del nord. Ventilazione a prevalente regime di brezza. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate, iscriviti e attiva la campanella.